Cosa sono i DSA? Ogni persona ha un suo modo unico di vedere e costruire il mondo. Tra tutti i modi diversi ci sono i DSA, disturbi specifici dell'apprendimento, tra i quali troviamo dislessia, disortografia, disgrafia, discalculia. Queste modalità diverse di vedere e interpretare la realtà dipendono dal funzionamento particolare di alcune strutture celebrali e creano uno spettro infinito di neurodiversità. La neurodiversità è semplicemente un modo peculiare di ragionare, è una caratteristica della persona e il suo simbolo è uno spettro infinito. Se da una parte le persone con DSA possono avere delle difficoltà di memoria, di gestione del tempo e di organizzazione, dall'altra parte il loro modo di ragionare può sviluppare creatività nella risoluzione dei problemi, visione d'insieme, originalità, intuizione e innovazione. Le persone con DSA sono abituate a ovviare a difficoltà di lettura, di scrittura, di memorizzazione, di organizzazione, sviluppando strategie di pensiero e di azione e imparando a usare strumenti compensativi, come mappe mentali e mappe concettuali, audio, video e applicazioni. I DSA interessano circa il 4% della popolazione. Sono disturbi invisibili che si manifestano attraverso il comportamento, il modo di pensare e di agire della persona. Nel mondo del lavoro questa invisibilità può essere un vantaggio perché ci dà la libertà di svelarci se, come e quando vogliamo. Nello stesso tempo comporta però uno svantaggio perché per le persone non è facile comprendere quello che non è visibile. Le persone con DSA si trovano spesso a dover far fronte a un vero e proprio stigma. Possono essere considerate pigre, svogliate o addirittura incapaci e possono trovarsi spesso a giustificare tempi o errori. Il problema non è mai il DSA, ma l'ambiente, gli stereotipi. La mancanza di tutele e buone prassi. In Italia la legge tutela le persone con DSA durante il percorso scolastico e universitario. Nel mondo del lavoro sono state da poco introdotte tutele per quanto riguarda i concorsi pubblici. Non sono previste tutele nella selezione del personale nel mondo del lavoro privato. Le metodologie tradizionali di selezione del personale sembrano partire dal presupposto che le persone siano tutte uguali. Alcune aziende hanno un processo di selezione che prevede test e prove poco compatibili con i DSA. Anche il classico bilancio delle competenze è basato su modelli standardizzati su persone neurotipiche e quindi lascia fuori tutte le persone che hanno modi diversi di elaborare le informazioni. Queste cattive prassi, le brutte esperienze passate e la paura dello stigma portano le persone con DSA a nascondere questa loro caratteristica e questo può avere un prezzo molto alto in termini di stress e fatica.